Ogni vita è straordinaria. Il mondo è pieno di vita, pieno di cose straordinarie che cambiano tutto, continuamente. Anche il nostro modo di ragionare e calcolare e giudicare a volte cambia. Pensa alla possibilità che ci danno le nuove tecnologie di prendere senza togliere. Dal soffio trasparente dell'aria, dall'impido balzo dell'acqua, dalla terra e dalla biomassa, dalla trasformazione della materia organica, dal sole. I nuovi impianti energetici prendono energia per l'uomo senza togliere l'ambiente. Illuminando i nostri pensieri, i nostri calcoli, possiamo prendere l'energia che serve per ogni nuova straordinaria vita. Grazie a tutti.